Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Darkest Dungeon. Ok, siamo tornati nel nostro bellissimo borgo e vogliamo fare le quest per le grotte. Nello specifico perché voglio portarla fino alla fine e poter finalmente fare il boss. Quindi, prendiamo il nostro bel party che abbiamo oleato bene l'ultima volta, ovvero i due balestrieri. Per il momento non so ancora proprio precisamente come chiamarli questi, eh. E' a posto e facciamola questa media perché dovrebbe volere più punti e magari portarmi fino alla fine. C'è qualcosa che dovevo controllare su di loro? Non mi pare, quindi andiamo. Allora, questa media ergo tanto cibo. Poco mi importa se consumo un pochettino le mie risorse. Uno, due, uno, due e tante torce. Ok, di che tipo è la quest? Non ho guardato, vabbè, fa niente. Ok, il 90% delle stanze ed è il layout abbastanza favorevole. Posso semplicemente saltare questa e questa è farmi soltanto il percorso interno. Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Dodici stanze. Si può fare tranquillamente, credo, no? Poi dopo questa quest penso che li manderò tutti belli a riposarsi perché se lo meritano un pochettino. Cosa c'è qui dentro? Un busto e una chiave. Bellissimo. Nemici no. Questa quest effettivamente ci... È indipendente dalle battaglie che facciamo. Perché bicchiamo nemici, non nemici, è sempre lungo uguale. Oh, figo. Una toltra torcia che probabilmente la prende e la uso subito. Esatto. E andiamo. Oh, ricognizione. Buono. Cosa c'è qui? Andiamo un po'. Già fame. Debolite stomaco, eh. Ah, cinquanta. Poi... Oh, che cacchio. E' un'impressione mia o si stanno consumando più in fretta del solito torce? Sicuramente sarà un'impressione mia, basta, dai. Qui posso trovarci del cibo, ma non ne vedo... No, non... Perché rischiarmela? Di beccarmi qualcosa di strano, tipo una malattia nel toccare i cadavoli di animali. E la vanga, anche, fa il suo bel lavoro. Continuiamo. Perfetto. Cosa c'è qui? Nemici, ecco. Allora. Schiavo annegato. Guardiano oceanico. E queste che mi ricordo come si chiamano. Manta delle profondità. È bella salata. Almeno scopro cosa fanno. Possono mettere... Mettono due buffe, possono stordire o mettere avvelenamento. Eh, sanguinamento. Sanguinamento hanno tutti una resistenza relativamente bassa. Forse riesco, comunque, a... A schiaffargli qualcosa di figo qua, così. Che tipo sono? Eldritch, 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 Eldritch. E, in più. Riesco a fare entrare qualcosa? Solo al primo, che era quello che mi interessava di meno. Però, meglio di niente. Allora. Cosa che debaffo metto? Gli abbasso la precisione e il critico. Ci sta. C'altro anche hanno relativamente poca vita, questi qui giù in fondo. Notare che sono riuscito a fargli parecchio da noto assieme. Con questo posso spassare la protezione di quest'altro. Ma forse è anche a shottarlo? Eh sì, l'ho shottato. Ora. Battaglia del C-Ripede. Ok, adesso il tizio davanti sta facendo guardia al secondo. Ma a me non me ne frega niente perché uccido il terzo. Eccellente. Guardia cosa significa. Che praticamente, se provo a targettare questo dietro, colpisco invece protano. Un po' seccante come abilità, ma neanche così tanto, se ci pensate un attimo. Bleed? Sì, questa volta è entrato. Quanto è di Bleed? Uno. Si può dire che di fatto rimane in vita. Marchiamo così gli abbasso la difesa. E al prossimo turno probabilmente lo piallo direttamente. Non so se attacco lui, la cosa viene girata a lui. Cosa che mi va bene perché posso comunque... Altrimenti non potrei colpirlo. E infatti. Dieci danni in faccia. So, ho sfruttato un pochettino la... Il suo dono deve farla ancora? No. Ho sfruttato un pochettino le limitazioni che avevo a mio vantaggio. Sei. Possibile che ha più vita la balestriere di... Del caccio di taglie. Non lo sapevo. Non ci ho mai fatto caso in realtà. Posto. Altro sanguinamento con 4 danni di smassellanti. Una brega salata. Che fa? Cosa? Aia. Fa solo male, veramente. Se colpisco questo... Se è marchiato gli faccio danno extra. Perfetto. Perfetto. Dai, dai. State a morire tutti. Fate bravi. Non soglietevi dalle scatole. Un anche andato. Il primo dei due che mi capita di balestriere... Ecco. Sotto la sua cura. Che è essenzialmente... Aumentata su di lui perché avevo già fatto la sua vita. E tu... Non puoi colpire in prima posizione. Giusto. E allora mi limito a continuare a curare. Sì, sempre bene. E al prossimo turno... Ucciderò. Anche se credo che tocchi prima a lui. No, tocca prima a me. Ottimo. Perfetto. Un'ostrica viva che sta sentendo c'è qualcosa di valore. Eh, c'è un 1500 di gold. Cioè. Se chiamare... Se questa per voi non è di valore. Allora. Luce fioca. Alta torcia. E ti pareva che... Dovrei andare più shovel. No, ci ne avevo... Ne avevo prese due. Ok. Non so perché ero convinto di averne presa una sola. Mi stavo già preoccupando. Apriamo. Bottino. Ok. Una benda. E... Del cibo. E stiamo scorrendo abbastanza velocemente sto dungeon. Non so se è un buon segno. Un cattivo segno. Se è un segno. In generale. Allora. Ecco. Se pareva... La terza vanga sono sicuro di non averla. Infatti. Ho stressato tutti. Alla fine di questa quest dovrò... Per forza di cose... Mettere... Farli riposare un pochettino. Vado anche sotto per sicurezza. Perché non sono sicuro... Che mi bastino il numero di stanze. Allora... Ok. 76%. Momento di usare la torcia. E dei nemici. Di cui c'è anche l'alienato. Che è un po' un problema. Così la stressano tutti. Eh. Accusa. Potremmo finire proprio male per aver deciso di fare questa deviazione. Potrei anzi decidere di andarmene di letto. 14 punti ferita. Però questi qui ti potrei uccidere secondo me. Allora innanzitutto eliminiamo quelli che possono stressarmi. Cioè lui e lui. Posso colpire chi mi pare ma lui ha 14 e lui ha 12. Schivata. Schivata al t... Questo schiva tutto la niente. E allora cerchiamo di uccidere questo. Gli abbiamo tolto già il buon 70% della vita. A te. Ecco. Giustamente schiva tutto perché ci ha insistito. Mistero. Allora voi balestrieri da bravi. Allora. Riuscite a uccidermi questo? E un andato. L'altro pura. Bravo. Mi sa che siamo più efficienti a danneggiare quelli nell'ultima posizione che quelli nelle prime. Ecco. Stress che aumenta. Non mi piace. Non mi piace per niente sta cosa. Allora. La possibilità di colpirlo è dell'80%. Abbastanza buona questo tomato. Non mi dire rimasto a uno. È rimasto a uno. Morto. Eccellente. Io sono riuscito a mettere il sanguinamento a questo ma è un sanguinamento da uno. È praticamente niente. Attenzione. A questo punto direi che inizio a falciare come se non ce lo sono domani. Esatto. Se ne hanno lo sfido giusto. E i balestri di dietro che non possono più danneggiare si limitano a scurare di cattiveia. Poi se gli scappiano le cure critiche come questa. Tanto meglio. Però non era ovviamente rivista come cosa. Allora. 8 danni. E non gli ho messo il sanguinamento. Spinta a stord... Voglio stordire. Ok. Volevo stordire lo, non ucciderlo. Ok. Bravissimo. Magari preferivo non beccarmi subito. Grazie. Grazie per l'opportunità di ucciderli prima che loro possano farmi qualcosa. Allora, io vorrei partire uccidendo te. E ti è rimasto uno di vita. Molto seccante ma spero che... Il cagnolino è un pochettino... Ma è un pochettino deluso. Morto. L'altro balestriere invece può finirmi questo o può praticamente uccidermi l'altro? Allora, facciamo così. Almeno ho fatto entrambe le cose assieme. Gli ho abbassato la precisione al secondo. Spero che questo basti per non farmi colpire. Spero. A quanto pare no. Allora. Continuiamo a ferire di cattiveria. Guarda, questo è andato. E va bene. Poi, a chi tocca? A lui ancora. I due balestriere non possono colpire quindi ripartono con la cura verso... Uh! Cura critica, eh. Ripartono con la cura verso... Il bravissimo... Eh, non è l'O3. Il cacciato di taglia. Tu ancora non vuoi morire. E lo accetto tutto sommato. Tu ti autocuri. Vediamo che mi combina questo. Schivato. Eccellente, davvero. E muori. C'è poco da dire. Resistenza al malo, sono una tua schiva. Sono troppo carico? Allora, questa la posso non prendere. Questa non so quanto può... Vabbè, lasciamo riprendere qui. Basta, dai. Cosa c'è qua dentro? No, va bene così. Mi dispiace lasciare loot indietro, però a volte bisogna farlo per forza. Tra l'altro, quante stranze... Stranze, proprio. Quante stranze mancano? Una, due, tre, quattro, cinque. Nel peggiore dei casi. Magari se ho fatto male i conti e me ne bastavano di meno... Ne sono di meno. E io ancora devo accamparmi, eh, in tutto questo. Uh! L'antica scultura ti fa venire le vertigini. Proviamo a metterci un po' d'acqua santa? No. Fa venire le vertigini. Ecco. Mi sono rovinato il... È diventato un religioso. Cosa brutta. Allora. Diamo un'occhiata a quello che possiamo trovare. Altri nemici, di cui due di quelli che stressano. Che iniziano subito, tra l'altro. Non si perdono in chiacchiere. Allora. Inizierei cercando di uccidere questi... Sette danni. Va bene. Con un po' di fortuna riesco a shottare quelli più in fondo... Senza troppi problemi nel primo turno. Ecco. Stress. Aia. Stiamo messi in pochettino male, forse. Facciamo che quando arriviamo alla stanza successiva... Mi cura a prescindere. Allora. Lui è andato. E uno ce lo siamo tolto. Tu elimini a mi magari... Bezza. E tu invece cerca di uccidere questo con un po' di fortuna. Grande. A chi tocca? Di nuovo al cancello di taglia. È rimasta uno di vita? Sì. Non lo posso colpire ed incominciola pure. Uno. E... Due. Eccellente. È rimasto da solo. E tocca a lui, però. E tu cura. Perfetto. A chi tocca adesso? Credo al cacciatore di taglia in realtà, eh. No. Tocca prima a te. Questi autocuri, anche se in realtà ho sbagliato a farti curare. Perché era meglio se... Uccidevi direttamente l'avversario. Perché sennò questo poi mi ripolpisce. È tutto un cavolo. Infatti. Muori e basta, dai, piccio. No. Ok. Niente muori e basta. E' anche il... Tanto tocca a... No, a lui. Ah, però colpisce qualcun altro. È già qualcosa di... Accettabile. Che si autocura. Perfetto. E ora tu. Esatto. Uh, che cos'è questo? Pagina del diario? No, questa qualsiasi cosa sia la voglio. Quindi... Se ho più un ben disposto... Ecco. Eh, non... Guardate. Io di base avrei preferito... Schippare praticamente questa missione e non pubblicarla. Però... Visto che abbiamo ottenuto qualcosa che a quanto pare... È... Particolare. Ovvero la pagina del diario. Penso che ve la pubblico a mostrarvela. A parte inutile fare questo discorso è che dal vostro punto di vista... Se state vedendo questo vuol dire che ho deciso di pubblicarlo. Perfetto. Poi. Eh, altre cure? Ah. Perfetto. Qualcosa per abbassare lo stress? Sì. L'aumento delle proprie vite di esplorazione mi va molto bene. Soccorso. Qua tutti i compagni al 35%. Figo. Però vediamo prima che c'è anche questo. Può abbassare lo stress. No, può abbassare i danni da stress. È diverso. Perfetto. Guarda, sono tutti quanti al full, quindi. Sì. E facciamo che abbassiamo danni a stress per te stessa, che sei quella... No. Per lui. Che su se stessa non lo può fare. Per le prossime stanze abbiamo la probabilità aumentata di esplorare, eh. Cosa che è molto figa per i prossimi quattro scontri. Ma ci stanno subito attaccandone la notte. Cosa non molto bella, in realtà, eh. Soprattutto perché fanno questo. Ok. Ah, tu puoi colpire comunque da qualsiasi posizione. Ed è una cosa molto buona. Cinque danni. Qua, tocca a loro. Aia. Tu, penso, riesci a ucciderli? No. Vabbè, tanto tu però puoi colpire quelli dietro. Non so cosa possa fare questa in seconda posizione. Non lo so proprio. Niente. La benamata ce fa. Eh, non cambia niente. Così ho fatto una cavolata. Non ho risolto nulla in questo modo. Quanto gli è rimasto di vita? Tre. Ok, così se si avvelena... Ecco, non muore, peccato. Continua a prendere botte, dai. Tanto ormai a sto punto. Ecco. Però preferisco quando, come in questo caso, spaziano i loro attacchi su più personaggi in uno che si accadiscono sempre col primo. Ehm. otto danni. Poi capirete perché ho deciso di fare sta cosa. Tanto ormai ha già fatto la sua azione. Ok. Pura. Perfetto. A chi tocca per primo, sempre a loro. Con un po' di fortuna che sta uccidere tutti quanti con un colpo fatto bene del... Maestro della caccia. Quello che fa danno a tutti. Fa un danno minimo, però fa danno a tutti. Aia. Allora. Tu muori. Perché sei quello con più vita. Nonché quello più propenso a... A fare gli impicci. Tu cura. Anche se in realtà dovessi curare anche te stessa, eh. Però vabbè. Quello altro discorso. Quanto stai lì da? Nove. Dodici. Nove. Dodici. È un po' un azzardo ma curiamo sempre lui. E tu. Usa il tuo bel attacco. Che può fare i casini. Ecco, lui è morto. È virtualmente morto da solo. Prefisco marchiarlo. Così forse è un altro turno per curare, eh. Spero. Eh. Perfetto. Cura te stesso. E sei l'unico che non ha bisogno di cure, purtroppo. E tu, cura, che capita. Nello specifico. Non puoi farlo su te stesso? Non lo sapevo. 17. 17. Perfetto. È morto da solo. E tutto sommato ce la siamo cavata bene. Soprattutto perché abbiamo trovato i guanti del rezzoso. Che sono una cosetta figa a vederli così. Allora. Che posso buttare? A parte. Eccellente. Mi sento un po' meglio. Continuiamo l'avanzata. Ci sono tre stanze. No, no, no. Ho sbagliato tasto. Eh, ho sbagliato tasto. Dicevo. Ci sono tre... Quattro stanze. Ma secondo i miei conti forse tre non dovrebbero bastare per il... Per la quest. Vediamo un po'. E soprattutto poi voglio vedere che cacchio dovrebbe essere questo. Che stagio del diario da una spedizione di condannata. Potrebbe essere il diario del... Dell'antenato? Quello che ci manda la lettera all'inizio del gioco? Mistero. Ricognizione in corso. Meno male. Trappola all'inizio e tesoro alla fine. Allora. Chi è che sta messo peggio? Però tu non corri rischi a... A disattivare questa trappola. Quindi facciamolo fare al caccio dei dettagli. Perfetto. Non mi piace sta cosa. Stiamo accumulando troppo stress e troppo in fretta. E io non voglio neanche fare questo. Nemici? No, ma altra ricognizione. Che ci ha aperto è che abbiamo dei nemici dopo. Ok. Spieghiamo che vada bene. 82. Sì, ce la dovremmo fare. E ti pareva che non c'era qualcuno che stressava? Io ero quasi contento. Ho detto adesso non finisco la quest. Quasi nessuno è stressato. Così posso poi usarli per la quest successiva. Invece no. Critico, eh? Infame. Allora. Iniziamo. Penso che questa possiamo ucciderla di nostra. Infatti. Piallata direttamente. Te puoi far danno... Fai danno extra se ti sono umani. Quindi facciamoti colpire l'umano. E te puoi colpire tanto lui. Quindi non abbiamo molte opzioni. Ecco. Qui abbiamo una cosa interessante. Perché potrei eliminarli entrambi... No. Eliminare uno sicuro e fare danno a questo. Sì. Mi è riuscita quasi decentemente. Ecco, no. Sopravvivere a tre punti di verità. Che palle. Vediamo un po'. Eh, ma non credo sopravvivere a questo. Non uno. Ok. Vende. Oro. Feticcio insanguinato. E dell'onice. Il feticcio insanguinato quasi quasi me lo prendo. Allora. Ah, intanto sprechiamo un po' di questi almeno. Che ho fatto una cavolata ora che ci penso, eh. Perché se mi arriva una botta di fame... Sono un pochettino fregato. Due deeds. E la mia unica speranza è riuscire a premere questo tasto. Abbiamo finito anche le torce. Però abbiamo finito anche la quest. Grazie. E credo che me ne torno al borgo così. Il mio errore lì è stato sprecare tutto il cibo perché se mi arrivava una botta di fame non potevo farli mangiare e saliva allo stress. Non abbiamo fatto eccessivamente incassi. Sono 7000 di soldi. Ebbè, però, effettivamente, a livello di cimeli abbiamo fatto il nostro perché, eh. Vediamo un po'. Allora. Fobbilo delle paludi che ha metto l'assassino delle paludi ma fa più danno agli uomini. Buono. Ok. Adesso, cerchiamo di capire se ci siamo potuti portare via il... No, no. Forse è stato nel momento dell'antenato? Vedete, qui sono i vari cosi dei boss fatti. Epilogo. Diari raccolti. Il diario di Darius, il brigante. Proviamo a sentirlo. Giorno 1. Rari sono i gandanti in autunno ed io, piuttosto che patire la fame, ho lasciato la mia ultima moneta in mano a un seguace delle ombre. I corvi portano criptiche note a chi paga i loro servizi che è meglio non menzionare nel porco e che nemmeno io ho mai saputo. Adesso mi preparo per la partenza. Ok. E vediamo se abbiamo effettivamente... Se siamo riusciti... Sì, abbiamo il... Il nuovo scontro con il boss che è la ciurma fratricia. Ovviamente che è l'apprendista e che faremo nel prossimo episodio. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito un commento e un like sempre aggredito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!